Cari genitori e cari bambini, ciao a tutti. Oggi è il terzo giorno di questa nostra novena in preparazione del Santo Natale. La storia di oggi ci aiuta un po' a capire che cosa vuol dire la parola, il verbo, vigilare, vigilare, fare il vigile, essere vigile. Come tutti sanno, un tempo, quando non esistevano i computer, tutto il sapere del mondo era concentrato nella mente di sette persone. Erano i famosi sette savi. I sette sapienti che conoscevano le grandi ragioni, i perché, i come, i quando, i rimedi di tutto quello che accadeva, erano così importanti che erano considerati re del paese in cui si trovavano, anche se, in effetti, molti di loro non lo erano. Per questo i sette savi erano anche chiamati re magi. Ora, nell'anno zero, studiando le loro pergamene segrete, tutti e sette i magi giunsero a un'unica strabiliante conclusione. Proprio in una notte di quell'anno sarebbe apparsa una stella straordinaria che li avrebbe guidati alla culla del re dei re. Da quel momento passarono ogni notte febbrilmente a scrutare il cielo e ogni giorno a fare preparativi per la spedizione, finché una notte sul velluto nero del cielo apparve la stella diversa da tutte le altre. Senza esitare, dai sette angoli del mondo dove abitavano, i sette savi partirono. La stella indicava a loro la strada. Tutto quello che dovevano fare era non perderla mai di vista. Ognuno dei re magi cavalcava in testa al proprio seguito. Tutti e sette tenevano gli occhi fissi sulla stella che essi solo potevano vedere di giorno e di notte. Indossavano dei mantelli di panno dorato e ogni mantello valeva un tesoro. Dietro di loro venivano i loro emiri, i loro paladini, i loro scudieri, i loro sultani. I cavalli e i gammelli erano carichi di molti abiti, molte vettovaglie e soprattutto di doni preziosi per il divino bambino. Lentamente le sette carovane si mossero verso il Monte delle Vittorie, dove la stella aveva stabilito che i sette savi si dovevano incontrare per formare una sola carovana. Olaf, re della fredda e inospitale terra dei fiordi, attraversò l'immensa steppa e le catene dei monti di ghiaccio e arrivò in una valle calda e verde, dove gli alberi erano carichi di frutta squisita e il clima dolce carico di profumi. Olaf e i suoi uomini non avevano visto mai nulla di più bello e decisero di fermarsi per un po' di tempo. In vano la stella dal cielo palpitava e lampeggiava per invitare il saggio re a riprendere la marcia. Olaf nuotava nell'acqua tiepida dei laghi della valle incantata e si abbronzava al sole e cominciò a costruirsi un grande castello. Si dimenticò completamente della stella. Igor, re mago del paese dei fiumi, era un giovane forte e baldanzoso, abile con la spada e generoso. Era partito al primo apparire della stella e cavalcava circondato dai suoi paladini, biondi e con gli occhi azzurri come lui. Tutti indossavano degli elbi d'argento, ornati di piume rosse e arbature, intarziate di rame e di bronzo dorato. Avevano attraversato le pianure e i gampi arati finché erano arrivati nel regno del re Rosso, un sovrano malvagio e crudele. I suoi sgherri frustavano e giustiziavano senza pietà i sudditi, che erano ridotti come schiavi. Il nobile cuore di Igor e dei suoi paladini si accese di ira contro le ingiustizie che avvenivano ad ogni angolo di strada e decisero di intervenire. Un mattino incontrarono uno squadrone di guardie del re che trascinava una dozzina di poveri contadini laceri affamati e coperti di catene. Igor sguainò la spada e si gettò sulle guardie, seguito dai suoi paladini. E fu la guerra, una guerra lunga e sanguinosa. Igor divenne il difensore dei poveri e dei deboli, ma perse di vista la stella e dopo un po' non la cercò più. Yen Huy era il re del celeste impero. La sua mente era nitida come un diamante e tagliente come una lava d'acciaio. I suoi compagni di viaggio erano tutti scienziati e filosofi e, mentre camminavano, guidati dalla stella, discutevano di matematica e risolvevano indovinelli difficilissimi. arrivarono in una splendida città ricca di monumenti di marmo, di giardini, di stadi e una famosa università dove insegnavano celebri maestri. Yen Huy non seppe resistere. «Mi fermerò solo qualche ora», si disse. Proprio quel giorno uno scienziato di gran fama teneva una lezione sulle origini dell'universo. Yen Huy lo sfidò a un dibattito pubblico che fu memorabile. Durò un'intera settimana, durante la quale Yen Huy e lo scienziato si confrontarono su tutti i campi del sapere e terminò con una partita a scacchi che ancora oggi viene analizzata dagli esperti per la genialità delle mosse del re mago Yen Huy. Fu proprio lui il vincitore, ma quando si ricordò della stella era troppo tardi. Non riuscì più a ritrovarla. Lionei era un principe poeta, veniva dalle terre dell'Ovest e seguiva la stella insieme ai suoi amici più cari, che non portavano armi, ma solo strumenti musicali. Lionei aveva composto un canto dolcissimo in onore della stella e del re dei re, venuto sulla terra a portare amore e pace per tutti gli uomini. Coloro che lo sentivano si commuovevano fino alle lacrime. La carovana di Lionel attraversò due grandi foreste e una sera chiese ospitalità alla gente di un popoloso villaggio di contadini sereni e operosi. Il giovane re e i suoi compagni furono invitati a un banchetto offerto dal borgomastro. Al termine del banchetto, la figlia del borgomastro, una graziosa fanciulla, danzò e cantò per gli invitati. Fu così che Lionei se ne innamorò perdutamente. In vano i suoi compagni gli ricordarono l'importante missione che avevano intrapreso. Tutti i pensieri di Lionei erano assorbiti dalla figlia del borgomastro. Nel suo cielo, lentamente, la stella misteriosa impallidì e scomparve. Melchior, re dei persiani, cavalcava in testa al suo corteo, senza perdere mai di vista la stella. Era abituato alla fatica e ai sacrifici e non diede riposo ai suoi occhi né di giorno né di notte. Non voleva correre il rischio di perdere di vista la stella. Questa gli segnava il cammino. Gaspar, re degli Indi, aveva con sé pochi uomini fidati. Il suo viaggio era lunghissimo e non voleva mancare all'appuntamento. Lo so con certezza, non posso ingannarmi. È nato un uomo del tutto simile a noi che sarà signore di tutta la terra e regnerà eterno attraverso i secoli. Con animo trepidante mi getterò ai suoi piedi. È la cosa più grande della mia vita, pensava. Baldassar, re degli Arabi, era già anziano. Viaggiava su un cammello che con la sua andatura dondolante lo faceva assopire. Per questo era affiancato da un paggio che aveva il compito di tenerlo sveglio anche con qualche brutto strattone, perché non gli accadesse la disgrazia di perdere di vista la stella che lo guidava. All'appuntamento al Monte delle Vittorie, così giunsero soltanto tre re magi. Scesi dalle loro cavalcature videro aprirsi nel cielo un'immensa porta ed apparire angeli splendenti i quali reggevano nelle loro mani la stella cometa e tutto il monte ne splendeva. Ai piedi del monte si unirono per lavarsi presso una fonte che stava alle sue falde e intorno alla quale si levavano sette alberi l'olivo, la vite, il mirto, il cipresso, il limone, il cedro e la bete. Ma quattro alberi stavano seccando e Melchior, Gaspar e Baldassar capirono che gli altri quattro savi non sarebbero mai arrivati. Dopo la purificazione formarono una sola carovana. È tempo di mettersi in marcia, disse Baldassar, che dei tre era il più vecchio e il più saggio e la stella ricominciò a precederli indicando il loro cammino verso Betlemme. Vedete, bambini, soltanto i saggi che hanno davvero vigilato non hanno perso l'appuntamento più importante della loro vita. Allora, noi cristiani siamo come delle sentinelle che dobbiamo stare sempre allerta senza lasciarci prendere dalla pigrizia, dal torpore. Ma senti, quando è che facciamo questa cosa? Boh, domani. Ma forse. Senti, c'è da mettere a posto. Adesso non mi va. Allora, il cristiano è sempre colui che è pronto e attento e quando uno lo chiama risponde con una sola parola eccomi, sono qua. Tanti ragazzi a volte capita che quando li chiami ma che c'è da fare? Boh, non so. Invece dobbiamo provare ad essere sempre pronti e vigilanti. Padroni della nostra vita senza che ci lasciamo trasportare dalle decisioni che fanno che dicono gli altri. Vivere è una cosa, un'avventura importante. Per questo dobbiamo essere vigili e attenti perché non dobbiamo rischiare di perdere ciò che conta veramente nella vita e questo è quello che Gesù è venuto a dirci e a portarci. In questo tempo tante persone preparano veglie, veglioni, preparano regali, luminarie, tutte cose buone, tutte cose belle, tutti i progetti fantastici, cerchiamo la pace e vogliamo la riunione della famiglia, tutte cose belle, ma queste cose hanno senso solo se mettiamo Gesù al proprio posto nella nostra vita, cioè nel nostro cuore. Ecco perché Gesù è venuto, è venuto per entrare nel nostro cuore e se Gesù prende posto nel nostro cuore tutte le altre cose si rimettono tutte quante piano piano a posto. Allora io vi direi facciamo questa preghiera insieme. Tu sei grande Signore e sei venuto in mezzo a noi come un fratello, come uno uguale a noi. Sei venuto a cercarci, a chiamarci, uno per uno. Io ti seguirò e a tutti i miei amici dirò è venuto colui che il nostro cuore aspettava. Provate a fare nella giornata di oggi se avete un pochino di tempo, provate a fare un bel disegno, una stella cometa, è semplice da fare la stella cometa, una stella cometa con dentro una piccola sveglia, un piccolo orologio che sta a significare che dobbiamo essere attenti, svegli. e forse in questo tempo che ci aspetta a Natale una piccola cosa che possiamo fare è per esempio svegliarci subito la mattina quando veniamo chiamati. Potrebbe essere una cosa molto bella. Ma perché ti svegli subito così stamattina? Perché dobbiamo essere svegliati e vigilanti. Bene, spero che questa storia vi sia piaciuta e vi do appuntamento a domani. Ciao a tutti!